E' un maschio se... Vai, vai! Chi è? Come mai hai portato il corpo? Il suo volo mi spieghi quando è il tuo Non volevo incontrarti da sola Eeeh... Mentre lui... Lui chi è? Lui chi è? Lui chi è? C'è il difficile porto con tu Lui chi è? E' distratto da c'è Il triangolo no L'avevo considerato Cotto ci prenderò La geometria non è un reato Non l'avevo considerato Non l'avevo considerato Lui chi è?